E diamo la parola a Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, vicepresidente delle città Slow. Buongiorno a tutti, porto i saluti del presidente Luca Marconi. Si scusa, quindi mi ha dato la possibilità e l'opportunità di parlare a questa bellissima platea che molti di voi ieri sera, chi è incontrato, mi hanno chiesto ma cosa sono queste città Slow? Molte se lo chiedono. Queste città Slow sono state fondate nel 1998 da quattro sindaci sotto la regia di Carlo Petrini, il sindaco di Grevinchianti, il sindaco di Positano, Bra e Orvieto. Questa associazione è partita con quattro comuni, oggi ne conta 129, di cui 70 italiani e 59 sono in 20 paesi di tutto il mondo. L'ultima di rire è un'associazione che cresce ogni giorno, le domande sono sempre di più, tanto che ci ha portato a mettere all'ordine del giorno nell'assemblea internazionale che si terrà a fine giugno a Seoul, perché i coreani sono entusiasti, sono entrati in questa associazione con tantissimo entusiasmo, proprio di andare a irrigidire un pochino i parametri. Quindi gli indicatori oggi sono più di 50, magari li porteremo a 70. Un'associazione che è molto vasta. Cosa fate? Chi mi domanda, io dico noi siamo il braccio operativo di Slow Food. Noi siamo quelli che nelle scuole vietiamo l'ingresso dei precotti, noi siamo quelli che nelle scuole promuoviamo l'educazione alimentare. E fare l'educazione alimentare non si può fare solo ai bambini, bisogna coinvolgere anche i genitori. Noi siamo quelli che assistiamo ai presidi, noi siamo ogni volta che facciamo un progetto di sviluppo rurale, non dimentichiamo mai le eccellenze. Noi siamo quelli che mettiamo a disposizione dei contadini le piazze, in forma gratuita, per la vendita dei propri prodotti. Siamo quelli che abbiamo inventato il mercato del contadino, la cosiddetta filiera, noi l'abbiamo accorciata. Siamo quelli che in momenti di crisi non facciamo pagare le tasse ai contadini. Il mio comune paga i contadini e l'azienda agricola paga 0,30 centese a metro quadro. Noi siamo questi, quelli che applichiamo la politica di Slow Food sul territorio, ogni giorno, con i nostri progetti. Io ho apprezzato molti discorsi di alcuni fiduciari e mi è piaciuto quel discorso, mi ha colpito quello di Salerno, facendo riferimento a Ansel Kiss. Ansel Kiss è vissuto nel mio comune, guarda caso. È stato lì per 30 anni, io l'ho conosciuto perché quando l'ho andato via nel 96-97, che ho già sindaco, sono stato eletto sindaco nel 95, quando andò via perché avevo problemi alle gambe, mi disse divulgate la dieta mediterranea. E nei convegni che abbiamo tenuto in quel pochissimo tempo che l'ho conosciuto nel comune di Pollica, perché ne teniamo tanti sull'alimentazione, mi ha insegnato due cose. Quella che è la proprietà forte, importante dell'olio d'oliva. Mi diceva sempre che dopo l'atto materno l'alimento principale è l'olio d'oliva, è quello di mettere al bando le merendine e le bevande dolcificanti per i bambini. Lui era quasi scandalizzato da queste cose. E ricordo che mi regalò anche una piccola bacheca, perché lui era amante di archeologia, di piccoli reperti archeologici, che abbiamo conservato certamente al comune. E noi abbiamo in questi anni lavorato, anche non avendo le grosse competenze. Abbiamo divulgato, abbiamo acquistato un castello del 1300 dove è sede proprio della dieta mediterranea, dove insegniamo a cucinare mediterraneo, dove i protagonisti sono i pescatori, dove i protagonisti sono i contadini. Queste ricette sono perse, da qui la comunità del cibo, ma come si può non collegare la comunità del cibo alla comunità dei saperi? Allora non perdiamo noi questi saperi, perché in questi anni abbiamo perso tantissimo. Negli studi che noi facciamo sempre sulla nostra comunità, ormai la dieta mediterranea non la applica quasi nessuno, pochi. Abbiamo perso questa buona abitudine, da qui questa emergenza di ritornare quindi nelle scuole, di fare educazione. Io spero e mi auguro che Slow Food, che è ramificato sul territorio, con i propri fiduciari, con le proprie condotte, si rapportino sempre di più con queste amministrazioni, perché dobbiamo veramente fare un gioco di squadra per poter veramente oggi vedere concretizzato questo progetto. Le parole sono bellissime, le idee sono belle, sono costruttive, però vengono più percepite, diciamo, almeno dal punto di vista della nostra esperienza, dei paesi che entrano in questa cista Slow, mentre vediamo da parte nostra una certa indifferenza. bisogna correre i ripari. L'obesità nei bambini oggi è una cosa, non possiamo oggi non tenerne conto. Chi è certamente un bambino sovrappeso, quando diventerà adulto, è sicuramente un obeso. E sono patologie che ogni giorno aumentano sempre di più. Quindi un sindaco non deve soltanto pensare allo sviluppo di un territorio, dare dei buoni depuratori, dare una buona assistenza scolastica. Deveva anche pensare alla salute dei cittadini. Da qui questo grosso progetto che noi l'abbiamo messo in rete, perché la forza di Città Slow è quella dell'interscambio, è quello di scambiarci le idee, i progetti. Non si ragiona con una sola testa, ma oggi ragioniamo con 129 test, con 129 intelligenze, con tanti progetti che vengono condivisi. Da qui la nostra missione, perché noi siamo come missionari, almeno per quanto riguarda, e lo facciamo con amore, perché ci crediamo, noi possiamo veramente costruire qualcosa che sia ancora più solido, con una grossa collaborazione con Slow Food, per poter tenere in piedi questi mestieri. Io per esempio sono un sindaco e tutti mi conoscono giù pescatori, io ho fatto il pescatore fino al 95, nel vedere che ormai fra dieci anni, ve lo posso dire con certezza, al mio paese, a Ciaroli, a Ciaroli e a Frazione di Pollica, non ci saranno più pescatori, perché la pesca non si impara dall'università, si tramanda, i giovani non si avvicinano a questo mestiere. Allora ecco benvenga il presidio Slow Food della Ricci di Benaica, che li impegna poco, stanno crescendo, si mette giù veramente una piccola cooperativa, li avviciniamo al mare per non perdere questo distacco totale. Teniamo un filo di speranza per poter collegare e tenere in vita questa nostra esperienza e questa nostra tradizione. Io ho finito il mio tempo, vi ringrazio per avermi dato questa opportunità, buon lavoro e auguri a tutti. Grazie. La parola ora a Susanna Cenni, delegata della Toscana e parlamentare italiana.